bentornati oggi ho un mal di testa però morivo della voglia di farvi vedere una cosa interessante ho visto che in giro molti si chiedono come utilizzare whatsapp su ipad su iphone ovvero in realtà su iphone si può utilizzare infatti come vedete whatsapp è compatibile sia per iphone che per blackberry che per symbian per android e windows phone però non è possibile installarlo sull'ipad infatti volendo utilizzare whatsapp web e andando quindi su web.whatsapp.com ci compare questa pagina che ci impedisce di utilizzare il whatsapp web il problema si può banalmente risolvere utilizzando safari quindi andando sempre all'indirizzo facciamo incolla facciamo via ho fatto copia incolla per fare prima a me ora compare direttamente la pagina di sblocco per whatsapp web per poter visualizzare questa pagina se non l'avete ancora fatto dovete andare in condivisione e sfogliare fino a trovare l'icona del monitor quindi fare richiedi la versione la versione desktop ora lo rifaccio mi ricarica la stessa pagina perché questa è la versione desktop a questo punto non mi resta altro che accendere il mio telefono e andare in whatsapp quindi whatsapp web e centrare con il codice con il telefono il codice ecco qui che ora potete usare whatsapp sul vostro ipad tempo della configurazione questo messaggio ci dice che per poter utilizzare tutte le funzioni di whatsapp web si consiglia di usare google chrome lo ignoriamo è qui che ora possiamo utilizzare whatsapp anche se chiudiamo passiamo ad un'altra applicazione poi ritorniamo resta connesso a whatsapp e quindi possiamo messaggiare da qui ringrazio vi invito a condividere questo video a iscrivervi al canale cerchiamo di raggiungere almeno i 100 iscritti entro una settimana è una sfida possibile alla prossima per la prossima